cari amici buongiorno e benvenuti anche su questo video mi trovo qui nella valdogna e sto percorrendo questa volta la ciclabile però verso sud e mi trovo su un ponte qui passava un tempo la vecchia ferrovia questo è il panorama sottostante e niente ci vediamo fra poco per il resto continuate a seguirmi e vediamo un po cosa ne viene fuori qui sono in prossimità della vecchia stazione di donia degli edifici quasi ormai inghiottetti dalla vegetazione sono in mezzo alle montagne qua il sole non arriva e se arriva arriva sicuramente più tardi quindi nonostante la giornata sia abbastanza calda qui è abbastanza fresco e diciamo che si sta giusto bene una serie di piccole gallerie una dietro l'altra molto bello questo tratto se questi vecchi edifici potessero parlare quanta storia potrebbero raccontarci chissà quanti treni hanno visto passare da qua nonostante l'alto E ho raggiunto questa meravigliosa cascata in località Cadramazzo. Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Tornando indietro verso Donia, questa zona è un po' più in ombra fra i monti, comunque è sempre interessante e gradevole da percorrere anche a piedi. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!